Dopo l'incontro di giovedì con il Consiglio Comunale dei ragazzi, dei quali vedete le giacche, sabato ci troveremo invece a parlare della trasparenza. Trasparenza intesa come capacità di trasmettere e di veicolare le informazioni. Per questo la mattinata la passeremo decidendo insieme che cos'è per il cittadino e per noi quindi la trasparenza e anche come veicolare a tutti gli altri pordenonesi quello che abbiamo fatto insieme in questi mesi di lavoro. E il pomeriggio, sempre per lavorare sulla trasparenza, analizzeremo insieme il piano territoriale per costruire insieme ai cittadini di Pordenone una parte dell'osservazione da mandare in regione. Più trasparenza di così è difficile ma noi sappiamo che questo è il primo passo per prepararci a condividere insieme quello che sarà il futuro della nostra città e quindi vi aspettiamo.